Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in un nuovo video qua sul mio canale YouTube scusate l'assenza però ci sono state un po' di cose da fare ultimamente tra gare e altri impegni ho un po' tronacciato questo canale ma adesso lo voglio riprendere alla grande e soprattutto ho registrato diversi video che usciranno da ora in poi piano piano quindi continuate a seguire questo canale ma prepariamoci per il video di oggi Allora, lo scorso weekend ho avuto la fortuna di fare diverse attività, diversi sport uno più divertente dell'altro e ve lo voglio mostrare in questo video iniziamo dal sabato dove sono andato a girare in motocross ad Orno non ero da solo, ero con il mio amico Davide Palazzari e ci siamo divertiti davvero davvero tanto bella per tic Boll'amico Vatten Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ero mai stato e guardatevi il video adesso perché sono davvero fantastici. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.